Inaugurata la Biblioteca della Regione, la mostra Tancredi e Giulia di Barolo, riforme, cultura e beneficenze nel Piemonte del primo ottocento. La rassegna, visibile fino al 15 novembre, espone documenti, fotografie, oggetti, medaglie e pubblicazioni che testimoniano l'impegno culturale e sociale del marchese Carlo Tancredi Falletti di Barolo nel 175esimo anniversario della sua morte. E' seguita la conferenza di Suor Felicia Frascogna, dell'Ordine delle Suore di Sant'Anna. La mostra è stata realizzata in occasione del 175esimo anniversario della morte del marchese. La motivazione prima è che questo grande personaggio venga maggiormente conosciuto nella sua città di Torino che lui ha tanto amato e ha tanto beneficato.